Musica Ok ragazzi Siamo qua Di mostro N2 e 7 Settima parte Se non mi sbaglio Va già per sei conti Sto proseguendo Ovviamente Sto proseguendo La serie Allora 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 Io mi faccio Nel frattempo Vabbè E così Mi piace Allora Ottieni gli ingredienti Del siero da lucas Da lucas E come faccio Ad ottenerli Di ottenerci Nella casa Oh che bello Che Che non c'è più Nessuno Qua Dove Andare Ma non mi dia che Dove Andarci Giù di nuovo A quanto pare Qua Torniamo Nel nostro Posticino Preferito E' bello Che adesso C'è buio Non è come prima Tutto buio Tutto buio Allora Andiamoci qua Ora tu dimmi Cosa ci fa La vecchietta Qua Dove c'è noi Mostri Più I più Potenti Ma lei è qua Ma come Ma chi è lei Alla fine Ci deve essere Qualcosa Sta qua E anche nel trailer Proprio lei E anche nella intro Direzione Tiver Ci deve essere Un trucco Uh Uh No Non l'ho visto Oh Così Meno male Che c'ho Il fucile Però stanno mancando I colpi La pistana Non è un gran che Pensa a te Ma c'è solamente Una luce E' lì Al centro Scrive qua Prodi E' un vero uomo Infila la mano Nel cuore Di questo maiale E adesso Dobbiamo fare Sì giochetti Qua Di questo Figliolo Amico Romai Eccola Vedi che c'è Il chiave Serpente Quel bel regalino Aiuterà te A trovare le tue schede Senza quelle Non potrai entrare Alla festa Mi dispiace tanto Ti deve guadagnare La pagnotta Ethan Ok Ok Ragioniamo Che facciamo Che facciamo Andiamo col colpo secco Preciso che comunque La pistola Di merda Madonna No si bacqua Oh Bello Madonna Come si è Apri Chiudi Chiudi Ok E non ci torno più Fammi uscire Con calma No Fammi uscire Fammi uscire E' finita Non ci torno mai più Se non serve Laggiù È troppo pesante Insomma Ok Ok Sotto Sotto Strolli Ingediente Del cielo Ok Questa Ragion Fondate Varo Fu Li Oh, no. Ok, ottimo, però siamo out, siamo out col fucile. Vediamo qui cosa c'è di buono. Ok, è un bustibile. Ancora? No, ma qua... Ce l'è proprio... La sera degli altri orologi. E questo, ragazzi, lo sapevo perché l'ho già visto che 10 e 15 sono già, altrimenti dovrei andare a cercare quello dell'oraggio in cucina. Non mi va. Non mi va. Oh, però... Il Grimandello... Il Grimandello. Il Grimandello. Erba. Sembra di essere lo scambio di un'arma. Un'arma! Uh, zaino! Meno male che l'ho visto. Adesso si respira molto meglio. Però prima di andare lì... Dobbiamo fare un attimo di cose. Vedi, anche quei 10 e 15. Uh, cosa è successo qua? È successo di tutto. Ah, bello qui, eh. Molto carino. Ok. Aprile. Ma mi ha portato a sperare in città e mi hanno fatto una foto alla testa con una macchina strana. Però mi ha comprato un puzzle da 260 pezzi al negozio e giocattoli. Oliver continua per venire. Era seduto matto. Dice, ho detto a Ugeoria, gli ho detto di venire a casa per me a comprare. Poi l'ho chiuso nella tattica. Con il mio telecomando. Mi c'era così tanto. Fammi uscire Lucas. Ho modificato il telecomando così. Zoe, la scema, non può infilarsi nel attico. L'ho unita a uno dei metri federali. Non so mai. Questa è una... È una stanza di ragazzino. Come possiamo ben vedere. C'è il pallone. Come c'è la pistola. C'è un altro che è il mandello. C'è... Qualcosa c'è? Eh. Vediamo un po'. Oh. Oh, però. Ora è finalmente smesso di urlare ma a volte sento una stanza picchia dall'altro. C'è troppa puzza. C'è anche una stanza liquida che corre dal soffitto. Non ho visto che era tempo. E' rotto. Allora andiamo su e vediamo cosa troviamo qua. Sperando di non... Buon compleanno. Buon compleanno. Una videocassetta. Guardate roba di... Oh, di stasera, di durata. Questa sera, può essere migliore di un'versione d'ingresso. C'è una ascia. Giocattolo. Però. Riproduzione fucile. Riproduzione fucile. Qua quanta... Cioè, meno male che ho preso il zainer. E qui... Eh... Aspetta. Come no? Allora, ecco. Non è facile, vedi? Non è facile. Non è facile. No, no. E abbiamo... Ragazzi, la prima scheda blu. Abbiamo la scheda blu. Ma il problema adesso è che noi... Non possiamo fare niente. Però ci abbiamo anche la videocassetta che me la voglio vedere. Me la vado a vedere subito adesso. Ce la guardiamo anche qua, eh. Buon compleanno. Amico mio, sei un postulato figlio di puttana. Lo sai? Ti invidio, ero. Casa! Non mi credi? Questa gioia non può essere vita. Per finirla ci sono voluti addirittura... Ma è veramente rompita. Ed è tutta per te. Che c'è ora? Vai, non fare così. Ci divertiremo. Vedrai. E mi ha chiuso. Mi ha chiuso. C'è una candela. Me la prendo subito. Adesso vedremo... Cosa dobbiamo fare in questo... Cosa dobbiamo fare, ecco. Oh. Questa gioia si chiama... ...Voglio davvero uscire vivo da questa stanza... ...e non patire una morte orribile e dolorosa. Lo so, è un titolo temporaneo Prendi una candela, accendila E mettila sulla torta E ricordati di sorrivere Questa festa è tutta tua Bello, eh Eh, però vedi, no? Quando passo qua Vedi? Si accende il ventile Ma se vado così Eh, no Quindi Allora Cioè, guarda che gioco dobbiamo farci Ok Vediamo cosa abbiamo qua Ok, ci siamo qua Oh Che bel gioco, eh Oh Ma che bei palloncini Ma che bei palloncini Ma che bei palloncini Ah, eccolo qua, il palloncino È questo che ci serve Cos'è? È gas Uh Va via Nooo Era un palloncino pieno Però Progressi fatti Calamo Sai perché ci sia il calamo, ragazzi? Per portare sto tizio Anzi Così Così Ecco Come no Allora c'è ancora qualcosa da fare Tiriamo lo water Vediamo Uh Oh Cosa c'è di buono Disgust Canocchiale sporco Eh ma Eh eh Cosa mi ci combina con un canocchiale Non c'è acqua Allora A lui la penna non gli va Vedi Non può impugnare C'è un indovinello Che lo devo capire Chiavetta da carica Ok E adesso qua si inizia a correre Ma vabbè Tanto fa dopo Una volta vuoto Insomma Qua ci deve essere un trucco Ok E lui funziona adesso Ti ho tam Mi vado su YouTube Non me ne frega Uno Due Tre Ok Raga Andato su YouTube Andato su YouTube A vedervi E non so ancora Dove si trovano sti qua Pazzo di paglia Non trovo il codice E se non trovi E se non trovi il codice Non puoi Non puoi E non so Veramente dove Trovarlo Ok Pazzo di paglia E otteniamo E otteniamo E otteniamo raga Il dito del manichino Tanta roba Guardate come si fa Progresso adesso Oppala Oppala Il dito Mettiamogli la penna E battiamo Così Oh Loser Tutta sta fatica per Per cosa Ah ho capito Ecco il trucco Il trucco c'era Ma non si vedeva E adesso scriviamo Loser Conferma Ok Here Manopola Valvara Ok Dovremmo Dovremmo esserci E questo è qua Questo dovrebbe essere qua Sopravviviamo Moriamo Non lo so Dio Ho spento le luci Mi ha spento le luci Vai Posizionala Applausi Oddio Dove finita la porta? Buon compleanno Ma Se a questo Stare a dire Buon compleanno Non lo so Qua ci abbiamo Un sacco di bella roba C'è il fluido Chimico Forte La scheda La scheda Blu Raga Eccola La scheda Blu Ma è una Schera grafica Quasi C'è ancora qualcosa Sì 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 Fucile Ma qui Si può Riproduzione Fucile E' ancora lì Vabbè andiamo qua E vediamo Dove ci porta Si è chiuso Ma è ancora lì Ma cos'è Segreto Ma come Siamo di nuovo Qua Siamo di nuovo Siamo negli incenditori No Eh ma i slot sono pieni I slot sono pieni Facciamola una soluzione Medica forte Va Per prenderci La scheda rossa La scheda Dio Oteo No E adesso veramente non ci vuole tornare più Adesso sto in serie Mamma mia Una telefonata Mamma mia come senti la pioggia Questa è pioggia Passa dal giardino Ed è la festa Oddio neanche non l'ho visto Ok Qua ci stiamo meglio Meglio ragazzi Meglio qua Ok Ma sto fucile Una rivoluzione in legno di un fucile Non può essere usata come arma Insomma anche in qua A questo punto il fucile Lo metto in baule Perché non c'è più la munizione Non ne trovo più Quindi Io mi prenderei Una grande pistola E Munizione pistola Erba Ce la prendiamo Ok Chiave corno Braccio Combustibile Solido Ok ci prendiamo Così Fluido chimico Ok ragazzi Noi ci vediamo qua Abbiamo le due schede Per entrare alla festa Armati Non siamo un gran che Ma va bene E Niente Noi ci vediamo al prossimo video Di RENZE NETVII Sempre più bello sto gioco Sempre più bello Spolliciate Noi ci vediamo al prossimo video Bella Bella